Ciao, mi chiamo Giovanni, oggi sono qui a Malta alla giornata di conseguimento dei certificati per il termine del percorso con l'Energetic Club, un club online in cui una volta al mese assieme a Giuseppe Scaffarelli e a Anna Maria Ghinette vengono sviluppati dei temi legati a spiritualità e ricchezza. In particolare volevo condividere con voi che in questa giornata abbiamo partecipato ad un mastermind con tutti i partecipanti dell'Energetic Club in cui ognuno ha proposto una propria dinamica e grazie alla forza e allo spirito di gruppo abbiamo avuto delle risposte più ampie rispetto alle nostre dinamiche e questo ci ha arricchito. Grazie.